Ieri al Tomaselli c'era anche l'imprenditore Luca Giovannone che ha seguito interamente Nista Casteldaccia assicurando il suo impegno accanto ai dirigenti della società bianco scudata anche l'anno prossimo. Soddisfatto per la vittoria della squadra di Alessio Sferrazza, Giovannone ha parlato di programmi ambiziosi annunciando l'arrivo di due giocatori importanti in proiezione futura per puntare nella stagione 2023-2024 al salto di categoria. Finalmente ho visto una Nista dominante così come la voglio io, siamo sulla buona strada per migliorarla sempre di più in settimana arrivano altri due importanti giocatori che contribuiranno a questo discorso verso il futuro di una squadra che l'anno prossimo è mia intenzione che punti direttamente a vincere il campionato. Quindi tifosi della Nista possono sognare? Possono sognare perché sono qui non per fare una comparsa ma sono qui per fare la storia della Nista. E noi saremo qui a raccontarlo allora. Forza Nista! Grazie! Grazie! Grazie!